Dallo studio distribuito di Gump Media Production Franco Solerio Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana del 29 gennaio 2024 Apple spiega come intende la tempiera DMA europeo L'importanza del mercato dell'usato nei videogame E anche Telo Swift per l'attacco a 23andMe Questa è molto altra e scaletta per un'ora e mezza Dedicata la notizia a quella digitale all'italiana Dallo studio di Milano Cittastudi Qui è Francesco Facconi E dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio Buonasera amici, ciao a tutti Buonasera ascoltatori Eccoci qua pronti per questa bellissima puntata Come state? Ma se come sei pimpante stessi Eh sì, oggi siamo in modalità sostituto Quindi sono stato tirato giù all'ultimo Ma io, saldo ai motori Esatto, ho tirato giù in pieno Eh ma anche a me Sono l'unico titolare insomma Dai diciamocelo Maestro non ho studiato Maestro solo Max oggi stasera Va bene, va bene È stata una settimana Piacere Tranquilla Una settimana Senza grandi notizie mi sembra Assolutamente Tecnicismi Tecnicismi Allora Partiamo a bomba C'è stato un comunicato stampa Qualche giorno fa Che ha scombussolato un po' E di fatto ci ha riempito una buona parte della scaletta Io lo dico subito ai nostri ascoltatori Che magari non lo sanno ancora Noi mettiamo sempre i capitoli Dentro le puntate Quindi se dovesse non interessarvi Potete andare alle notizie successive Però E oggi è tipo i saluti Le notizie successive Ci vediamo Il prossimo lunedì Se è vero che parleremo di una grande corporazione americana È anche vero che parliamo di Europa Parliamo del nostro futuro La nostra società Quindi secondo me Insomma ci può essere un argomento interessante Per un po' tutti Vediamo un po' Chi mi vuole raccontare di questo misterioso comunicato C'è chi mi dice Tu sei riassuntologo A parte quello esatto Sei registra, riassuntologo Facile così smollare poi gli argomenti Quelli scottanti che già sappiamo Che c'è la campanella pronta Din 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 Comunque Anche perché poi è veramente complesso Andare ad introdurlo come argomento Dobbiamo prenderlo probabilmente a blocchi Se vogliamo fare L'incipit potrebbe essere quello di Vi ricordate l'incipit di Apocalypse Now Con Jim Morrison da sotto Che canta This is the end My only friend E poi tutto il napalm Che viene buttato sopra le foreste di palme vietnamite Ricordo che Michele farà un tour di 200 dati Per gli star italiani Andatelo a seguire Allora no però Sicuramente una settimana da ricordare E di quelle di cui parleremo Per qualche mese Se non per qualche anno Apple ha lanciato I nuovi Anzi ha annunciato Tramite un comunicato stampa I nuovi terms of service Che sono collegati All'implementazione All'anzia Alla scadenza La prima scadenza Per il digital market tax Che è il regolamento Dell'Unione Europea Per stimolare La competizione Sugli store digitali Che quando diventa operativo Questo digital market tax Da qualche parte a marzo Esatto Che fai le domande Le domande a trabocche Si è preparato Capito E quindi vorrei Asfoggiare la sua cultura Esatto Quindi Da dove vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare Innanzitutto Nella posizione positiva Di una grande azienda americana Che riconosce Al mercato europeo Uno spazio significativo Tale Da adempiere Ovviamente Appunto Le richieste del legislatore Quindi ci portiamo a casa Che il mercato europeo Per Apple Quanto meno Non gli fa così schifo E quindi Almeno prova a fare Almeno prova a fare A fare qualcosa Lo so Vogliamo iniziare dai browser Che magari E poi la prendiamo A scalare verso l'alto Va bene Ma partiamo ok Dalle cose piacevoli Partiamo dai browser Qual era il problema Intanto E qual è la soluzione Perché Secondo me Il problema È che Ok Poi ragazzi Io sono l'unico Che non è utente Apple Quindi io ci provo Quindi Su iOS Voi altri Potete installare Dei browser Diversi Da Safari Ma Questi Browser Sono poco più Di una skin Di WebKit Esatto Cioè bisogna sempre utilizzare Quello che è il motore Di rendering principale Fornito al sistema operativo All'interno di Safari Quindi come dici tu Si chiama WebKit E quello che manca Fondamentalmente A tutti questi motori È l'accesso a Tipicamente estensioni O modifiche Che vengono fatte A come viene interpretato L'HTML E i vari comandi E questo chiaramente Limita un po' Diciamo che vedere Un Chrome nativo Un Firefox nativo Sono due cose Che finora Non si sono potute vedere Si sono potuti vedere Dei Chrome Con il motore Di Safari Dentro Quindi Si che poi Io pensavo Ricordandomi Un po' Le originali Policy Di Apple Mi ricordo anche Che non si potevano Sviluppare Delle applicazioni Che andassero a sostituire Quelle di sistema Di Di iOS Quindi Ma questa è già stata Una grande modifica Cioè prima di questa Grande modifica Fu La grande modifica Va bene Un altro browser Accettato Esatto Poi Altro livello Di difficoltà Adesso E andarsi a ricordare Cosa è valido Per quale piattaforma Perché poi Apple Che come vedremo Ha messo Tanti paletti E dir poco Dei piloni Più che dei paletti Per rendere tutto questo Estremamente poco Conveniente Soprattutto per gli sviluppatori Tra le varie cose Che ha complicato E Cosa si applica Su quale dispositivo Perché Alcune cose Valgono solo Per iOS Altre valgono Invece Su tutti i dispositivi Dove è installabile Dove è installato In realtà L'App Store Anzi Diciamo In più Scusami Alcune cose valgono Solo per Per l'iPhone Quindi per iOS Che ormai è l'unico È il sistema Che c'è solo sugli iPhone Avendo Il pad OS Eccetera Eccetera Alcune cose valgono Solo in Europa E alcune cose valgono Dappertutto Per cui Questo Ci sono state Una serie di comunicati stampa Il primo Che vedremo Poi più avanti Ma poi Tutti questi Sul browser Tutte le altre cose Che hanno comunque Creato un po' di Movimento Ecco In questo caso La questione dei browser È una questione aperta Per l'Europa Quindi si tratta Comunque Di una modifica Europea Credo Solo per iPhone Se ricordo bene Poi c'è un'ulteriore Sfumatura Alcune cose Sono possibili Solo per iPhone E altre Sono possibili Anche per l'iPad Esatto E questo Ha alzato Per esempio Questa dei browser Appunto È solo per È solo per iPhone Ma Sui felici commenti Li vedremo dopo Che secondo me Ok Facciamo dopo Il discorso Dei felici commenti Sì Separiamo i fatti Dalle opinioni E dai commenti Ok E questo Direi che Tema browser Ci siamo Continuerei Sul tema Delle cose positive Aspetta Forse Anche tu davanti Così facciamo Ecco Perfetto Che è il discorso Dello streaming Dello streaming Dei videogiochi Vogliamo Parlare di quello Allora Tempo fa Quando era uscito Microsoft Xbox Game Plus Mi ricordo più Insomma La possibilità Di fare i videogiochi In streaming Direttamente da Microsoft Poi Cosa ripresa La stadia Da Come si dice Da Luna E da tanti altri Microsoft Si era trovata Bloccata L'applicazione Perché Ogni videogioco È un gioco A se stante E quindi Secondo le policy Di Apple Questo voleva dire Che ogni gioco Doveva essere Un'applicazione A se stante Con la sua scheda La sua review Eccetera Quindi L'idea di avere Una sola applicazione Che permettesse Di gestire Tutti i videogiochi Come poi era Il Game Pass Plus Non era assolutamente Gestibile La novità È che finalmente Questo invece Può essere fatto Esatto E questa la Incaselliamo Sotto Per tutte le piattaforme Ma solo in Europa Corretto Direi per tutte le piattaforme Punto Questa è una Novità As well outside The App Store In the U Hai ragione Esatto Quindi questa è aperta Veramente dappertutto Ed è una Un'ottima cosa Quindi siamo a Bravi Bravi Ok Finito Giusto NFC Altra cosa Piccolina Ma I Gli sviluppatori Agli sviluppatori Verrà permesso Di implementare Dei metodi Di pagamento Utilizzando L'hardware NFC Disponibile Già Negli iPhone Senza passare Per Apple Pay Giusto Questo Era un qualcosa Di atteso Da tanti Produttori Di carte Di credito Di servizi Che volessero fare Utilizzo Di Chissà se vedremo Le varie tessere Dei mezzi italiani Che sfruttano L'NFC Per permetterci Di accedere Col telefonino Anche questo Solo iPhone Però un po' Ovunque Se non mi sbaglio Sì Credo anche di sì Anche perché Il discorso Questo discorso Ah no Quello forse era Il discorso Di Apple Pay Ma all'interno Delle applicazioni Niente Niente Dimenticatevi Quello dopo 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 Ok Prossimo Avanti E fin qua Siamo alle cose Ancora positive Andiamo all'elefante Nella stanza Eh sì Ce l'hai con me? No no Ce l'ho con Al più ce l'hai con me Ce l'ho con il side loading No Ok vabbè Diciamo che c'è un branco Di elefanti Perché Forse Il side loading Non è neanche Il brin gigante Quindi l'elefante Più grande No allora Uno dei Dei discorsi Che attendevamo Da in più In effetti L'avamo citato Nelle varie puntate Scorse Era questo Questa richiesta Della Dell'Europa Con i suoi Con le sue regole Di permettere Anche l'installazione Di applicazioni Da terze parti La legge Fra l'altro Dice Poi magari Lo vedremo Una serie di O Che poi Sono stati Interpretati In maniera Interessante Da Apple Fondamentalmente La speranza Di molti Era quella Di permettere Il caricamento Di applicazioni Direttamente Dal sito del produttore Quindi o vado Mi scarico Il IPA O comunque Un file Me lo monto Sul telefono E funziona Come funziona Appunto Su Android E come funziona Anche su piattaforma Mac OS Anche sul Mac Su Windows Su Linux Su MS-DOS Su qualsiasi altra cosa A parte Appunto iOS e compagnia Questa cosa Effettivamente Era attesa Sappiamo che Apple L'ha sempre Osteggiata Perché Come dire Il fatto di passare Per i loro rigorosi Controlli Dell'App Store Le loro Firme digitali I loro permessi Eccetera Faceva sì Che niente Di male Possa arrivare I telefoni Diciamo che Ah i telefoni Dai bambini Bravissimo Però Non ce l'ho Mi spiace Però A parte questo Diciamo che Finora Sembra Perlomeno Una certa storicità Su altre piattaforme In parte Dà anche ragione Ecco questo Però Non ho capito Allora Effettivamente La piattaforma iOS Rispetto Ad Android È stata Finora Meno Soggetta A una serie Di applicazioni Negative No No Questa è una cosa Se il loading Assolutamente No Rimani Il male Però Come dire Visto che c'era Questa necessità Di far sì Che non si dovesse Per forza Passare Dallo store Di Apple Quello che Apple Fa è Permettere E qua Solo in Europa Solo su iPhone La nascita Di app store Di terze parti Questo Rullo di taburi Appunto Vedi Questa Attenzione Al rispetto Delle richieste Del DMA Aspetta che Arrivano le fine print Poi Sempre Molto Ottimista Allora Sono state Annunciate Quindi Delle API Per Poter Creare Delle applicazioni Che installano Applicazioni Terze Ounque Non ospitate Diciamo Direttamente Dall'app store Sì Degli store Attenzione La cosa degli store È importante Nel senso Che non si può Anche qua Pensare a un'applicazione Che si affina Se stessa Né Uno store Di una singola Dedicata Ai prodotti Di una Di un'azienda Cioè Meta Non può fare Uno store Che sali Le app Di meta Deve essere Uno store Generico Deve essere Uno store Di giochi Di applicazioni Per l'astronomia Deve avere Una categorizzazione Che sia abbastanza Ampia Che debba avere Delle regole Di apertura Questo è un Come dire Una delle tante regole Che impone Apple E che fa sì Che comunque La speranza Che alcuni Produttori Anche di applicazioni Famose Spotify Epic Con Fortnite Speravano 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 di potersi Fare Come dire Il loro Staller Abbastanza privato Abbiamo citato Anche Meta Perché comunque Poteva essere Uno dei candidati Beh Questo non Può succedere Bisogna fare Uno store Potenzialmente Completo Ecco Da questo punto Di vista O comunque Almeno In una certa Categoria Aperto A Diciamo Che teoricamente Lo devi impostare Come uno store Quindi Un'entità Aperta Che può Ospitare Anche Applicazioni Di diversi Generi Provenienti Da diversi Produttori Questo secondo me In sé Non impediva L'idea Di avere Uno store In cui poi Le regole Di accesso Di altri Fornitori Di altri Produttori Fossero tali Da di fatto Polar Questo in teoria In pratica È proprio stato indicato Da Apple Che no Della categoria Deve essere Sufficientemente Ampia E non può Essere Eh però Sufficientemente Ampia Boh Sì certo Ci vuol dire Tutto Non vuol dire Niente Però Il problema Non è qui No Il problema I problemi I problemi Non sono Il punto È una question Come vedremo In realtà Con quasi Tutte le cose Al di fuori Di quelle Di cui abbiamo Già parlato Che se volete Sono un po' Più light Sta tutto Nell'Apple Che cerca Di mantenere Oltre al discorso Dei profitti Che parleremo Quando parleremo Della parte economica Ma anche Del controllo Perché oggi Da come interpreto Quello che ho letto Questa è una tua Interpretazione libera Assolutamente Assolutamente Quindi Domani Gli avvocati E Apple Continuerà A controllare Le applicazioni Anche se Passano Per questi Store Terzi Ovviamente Perché ha introdotto Questo processo Di notarizzazione Farà un controllo Più leggero Esatto Cioè Chiaramente Non lo stesso Livello Di controllo Delle applicazioni Che finiscono Sullo store Principale L'app store Ma Vuole mantenere Un controllo Di un certo Livello Di qualità Di utilizzo In particolare Dell'API E del fatto Che Le applicazioni Di un oggetto Non possano Compiere Diciamo Disastri A casa Dell'utente Un controllo Tecnico Dai La vera Diferenza È questa Che non Puoi più Non puoi più Fare Non è più Possibile Fare un controllo Da parte Di Apple Sui contenuti Sì Che però Mi ha Un po' Stupito Adesso Io non so Voi Come la Considerate Ma Non so Se da dopo Domani Potete installare L'applicazione Di Pornhub Cioè Allora Quello Strano Voi Te dici È esplicitamente Indicato Nelle varie Sì alle tette C'è scritto Allora Nella descrizione Che vi dicevo Prima Dove viene indicato Esplicitamente Che Non può esserci Un App Store Di meta Cioè solo Di applicazioni Di meta Però il porno C'è scritto Il porno Sì Noi non lo faremo Ma se tu Lo vuoi fare Basta che sia Una categoria ampia Quindi quello Sì Questo assolutamente Diventa Un Ripeto Perché poi Questo credo Sia veramente Legato A come Perché il DMA Il Digital Market Act Comunque È molto Ambigo Su tante cose Però in alcuni Casi Delle specifiche Le dà Credo che sia In questo caso Specificato Che non è possibile Cioè che devi andare Nella direzione In cui il controllo Come abbiamo detto È anticipato E poi in realtà Tra poco vedremo Ha messo Questi piloni Di cui parlava L'ottimo Michele E sta quindi Facendo un po' Uno slalom Tra questi piloni E uno Di quelli Che non ha potuto Evitare Appunto Che non c'è Controllo Sul contenuto Perché Perché poi Da questo punto di vista Se ci pensate Anche nella formulazione Di come puoi farlo E poi l'ha detto Con molta chiarezza Io ve lo faccio fare Voi però Ve ne assumete Tutta la responsabilità Io non sono più Responsabile Se aprite Un altro store Voi ne siete Completamente Responsabili Sì anche perché A quel punto Io non entro Nei contenuti Io Faccio un controllo Tecnico Chiaramente Questo controllo Tecnico Ovviamente Bisogna vedere Come è declinato In termini Di quello Che dicevi prima E cioè Del fatto Che appunto La dichiarazione Di intenti E faccio Il massimo Sforzo Per comunque Garantire Agli utenti Dei miei dispositivi La massima Sicurezza Possibile Tutto quello Che appunto Impedisco Che vengano fatte Delle catastrofi Del tipo Utilizzare l'iPhone Come bollitore Dell'acqua Cose di questo genere Qui Però Sul contenuto Non metto Bucca Per cui Si può Favore Pornado Ah Free Pornado Era ora Comprerò un iPhone Solo per Vedi Anche due Dai Già che ci sei Allora Quindi Finora mi sembra Che siamo andati Ancora sul positivo Tutto sommato Tutto bello Sento Potevano fare Di più Però Tutto Sento però Già la gioia Di tutti i produttori europei Pronti a Rilasciare Su due store diversi Perché comunque La gioia Si sente Anche un po' Come dire Di Sensazione di gloria Chi si fermenta La lotta Che hanno seguito Esatto Ma anche lì Dei commenti degli europei Arrivremo più Siamo riusciti Solo noi Perché Perché Tutto sto casino Del side loading Degli store alternative Nasce Da un Diciamo Piccolo mal di pancia Che Da sempre Hanno I fornitori Di contenuti digitali In particolare Come video Libri Abbonamenti Di servizi Eccetera Che Si Devono Lasciare Quel 30% Che poi diventa Il 15% Dopo il primo anno Oppure se fai meno Di un ton di soldi A Apple Le dicono Perché Abbiamo Dobbiamo lasciare Tutta sta parte qua No Pensiamo La protezione Spotify X Twitter E compagnia E questo C'è anche Scusami se ti interrompo Franz Il legame Appunto Con lo spirito Perlomeno Del digital market Act Che è uno spirito Diciamo Che va nella direzione Di evitare Gli oligopoli O i monopoli No Il procedimento Politico Giuridico È Ci sono Delle Entità Dominanti Sul mercato I cosiddetti Gatekeeper Io li prendo Li individuo Questi hanno una responsabilità Maggiore degli altri E di conseguenza Io sto chiedendo Ad Apple Che è uno di questi Il fatto Di cercare in qualche maniera Di aumentare La possibilità Di concorrenza Di non abusare Della propria posizione Dominante Rispetto appunto Alle applicazioni E a tutto il resto Questa era la logica Diciamo Del legislatore Ma Non quella di Apple Esatto No E quindi E poi si è pure incazzata Sai Non l'ha presa bene Poi leggiamo Esatto Allora Diciamo che Tutto questo Nasceva Questa protesta Da parte di chi E poi ha spinto In quella direzione La Commissione Europea A Appunto A cercare di ottenere Un modo Di non dovere Dare questa Quest'imposta Questa tassa Questo fiorino Un fiorino Un fiorino Esatto Per ogni transazione E Apple L'ha detto Va bene Allora Se vi fate Lo store voi Potete fare Le tariffe Che volete Libero mercato Assolutamente Però Però State usando Le nostre librerie State usando Xcode State approfittando Delle nostre cose Sono I barboni Ho fatto I poveri Jobs Che adesso Sarebbe a bordo strada A raccattare le monetine Se non fosse Che state Usando le sue cose E quindi Insomma Han deciso Di Fondamentalmente Rivedere Le tariffe Con Una cosa Abbastanza Complicata Quindi Riusciamo A dirla Tutta Abbiamo Tre livelli Di pagamento Ci vuole Un commercialista Solo per riuscire a capirla Tanto che hanno messo Su un sito Per riuscire a farsi I calcoli Io credo Che questa policy L'abbia scritto Qualche italiano Che prima Lavorava All'agenzia Dell'entrate italiane L'hanno preso Ed è diventato L'head of Eula Di Apple Allora Da quale vogliamo parlare Partirei Dalla Core Technology G-Fi Aspetta Quella è l'ultima Quella è l'ultima Lasciamola per ultima Si possono Allora Si possono rilasciare Le app Sull'app store Oppure Su uno store Di terzi E All'interno Di uno store Singolo Si può scegliere Di utilizzare L'in-app purchase Chiaramente Solo sull'app store Quindi non cambia Esatto No Esatto Oppure Un altro Sistema di pagamento All'interno Dell'app Di terze parti Ma non possono mischiare Perché non Non puoi mischiare O uno o l'altro Oppure il link Verso l'esterno Quindi dici Si ti apro il browser Fai tutta la transazione Finora il link Era un qualcosa Di vietato Esatto In base A questa scelta Ci sono Delle tariffe Che vanno pagate A Apple Si tratta Del Se sbaglio 15% E No No C'è un Diciasette Ambo Diciasette Vai vai Allora Facciamo la parola Bocconiano Su questo Dai Che bocconiano Sto cercando Di leggere Tradurre Anche senza Laura Bocconi Anche perché Non basterebbe Per interpretarli Allora 10% Per la maggior Per parte Degli sviluppatori E per Cioè quelli che guadagnano Meno di un milione Di dollari l'anno Esatto Oppure Il 17% Sulle Transazioni Per beni digitali Quindi immagino Qualcosa di simile All'in-up Purchase I servizi Senza A prescindere Dal tipo Di pagamento Di sistema Di pagamento Utilizzato Quindi On top Eventualmente Ma non è buono Perché è meno del 30% Aspetta mi confonde Quindi da 30% a 15% Passiamo a 17% 10% Ma anche se sto usando Il mio store esterno Con la mia gestione Di carta di credito Eh sì Perché Tu poi paghi Il 3% Di fee Se usi Il E qui Cascala Esatto La processazione Del pagamento Di Apple Pay Quindi Provando a riassumere In modo facile Se si utilizza Con le nuove regole europee L'app store Con l'in-up purchase Sempre fatto Dal 30 al 15 Si passa Al 20 E al 13% Quindi 13% Per meno di un milione O Dopo il primo anno E il 20 Per tutti gli altri Se si vuole invece Usare il proprio Gestione di carta di credito Quindi un altro Meccanismo In-up purchase Non ufficiale Di Apple O Il Una ridirezione Al link Si paga comunque A Apple A posteriori Il 10 O il 17 Di quello Che si transa Di quello che è Il Fatturato Dovuto A queste applicazioni Che è quella Rendicontazione Di cui parlavamo Credo qualche settimana Settimana fa Esatto Diciamo che Apple tiene i conti E poi viene a Batter cassa Voi tenete i conti Poi Lo ti dovete dare A Apple Apple dice Vi calcolo Quanto ci dovete dare Esatto E quindi Questa già E beh Questa comunque Era qualcosa Che avevamo già visto Se non mi sbaglio Nella In una disputa Legale Che era stata Fatta con i Paesi Bassi Con Olanda Dove per Una serie di servizi Era stato richiesto Appunto Di aprirli a Fornitori esterni Anche lì avevano Richiesto Il 30 Il 15 Meno 3% Il 27 Il 12 Se ben ricordo Quindi Credo sia ancora In corso Sta disputa Con i Paesi Bassi Penso Immagino Che questa nuova Super offerta Del 17 10 Andrà A battere E quindi conviene Perché Siamo scesi Nel monto Sì Ma Perché Mi ha detto Una parolina Magica Che si chiama Core Technology Fee Detta CTF Così da ora in poi La chiameremo CTF Come nei contratti Come ti frego Fantastico Questo come ti frego Dai È veramente Bellissimo Ce l'ha inventata Qualcun altro Sì Inizialmente Mi era inventato Con un'altra F Però Visto che siamo In fascia protetta Sono rimasto Fortunatamente C'era il frego Quindi Per Applicazioni Che vengono Installate Più di Un milione Di volte Ogni anno Solo in Europa Solo Su iPhone L'azienda Dovrà pagare 0,50 euro A Apple Per ogni installazione Per ogni anno Quindi Se la mia Applicazione Mezzo Fiorino Se la mia Applicazione È gratuita Fa 100 milioni Di download Il numero In questo momento Non a caso Fra l'altro Non la mia Ma poi vedremo Chi Deve pagare 999 milioni Per 0,5 Fatevi i conti Non è proprio Una cifretta Da poco Ogni anno Anche se Sono assolutamente Scaricate E non utilizzate Tenete lì Per installazione Infatti c'è un comodissimo Calcolatore Che Apple Ha pubblicato Quello è gratis Quindi voi potete vedere Qui potete Hai letto bene Esatto Poi devi rendi contare Tutte le volte Che l'hai usato Ottimo 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 Tra l'altro Da quello che mi sembra Di capire Questa Core Technology Fee Si va A far pagare Anche Ci dice Un signore Dalla regia Che non lo Includono Anche gli update Cosa che Assolutamente Non avevo letto Grazie signor Solerio Dalla regia E anzi Dalla non regia Esatto Vedete che è arrivato Il commento Ok Sì Per la prima Installazione annuale Compresa eventualmente Installazione di update Ma non I successivi Aggiornamenti Quindi se una persona La installa Più volte Qui rimangono I 0,50 La prima volta Che la installa O l'aggiorna Durante l'anno Invece quelli Quei 0,50 Centesimi di euro Invece valgono Ma questo è facile A gestire Si fa l'update Una volta all'anno E faci così Sì Ok C'è un punto Importante Che Credo Di poter dire Sia così Che vale anche Per le applicazioni Gratuite Corretto Vale per tutte C'è questa Piccola postilla Che se tu oggi Monetizzi il tuo business In altro modo Ti trovi a pagare Una cosa Che tu prima Non pagavi Attenzione Perché quella Tassa di prima Il famoso 17,10 Più 3% Meno Insomma Quella roba lì La paghi sul trassato Quindi se fai Un acquisto Se fai un abbonamento Dici Il vario Sistema di streaming Dice Fatti l'abbonamento A 9,99 Paghi una percentuale Quindi come dire Ancora Calcolabile Fa parte Comunque Delle spese Di gestione Di un costo In questo caso È proprio Un fiorino Che va A buttare Il tavolo Per installazione Ipotizziamo Di Voler Che tutta internet Si metta d'accordo Per dire Scarichiamo Quell'app lì Quell'app lì Rischia veramente La banca rotta Perché Se ti immagini Qualche milione Di utenti Che si va a scaricare Un'applicazione gratuita Che non ha E poi la cancella Comunque Apple arriva A batter cassa Con queste nuove regole Quindi insomma È un qualcosa Di abbastanza Pericoloso Che gli sviluppatori Dovranno Fare anche Qualche proiezione Sulle app Gratuite Di alcuni Produttori Che fanno Numeri Spettacolari Perché appunto In realtà Ho il modello Di business È diverso Tipo Whatsapp Tanto Perché Per nominarne Una a caso Sì Tra l'altro Per mettere In fila Poi tutti I pensieri La La ctf Vale Anche Se tu Carichi La tua Applicazione Su uno Degli Storterzi Di cui Abbiamo Parlato Prima Con Con Un asterischino Simpatico Però Ok Madonna È Complicato Ci abbiamo Speso Tutta la Settimana Leggendo Rileggendo Prendendo Appunti Perché è un Casino Da un Singolo Comunicato Stampa Che è una Roba Veramente Delirante Allora Il ctf Vale Per chi Scarica Cioè per chi Distribuisce In europa Su iphone Con queste nuove Regole E con queste nuove Regole È una Chiave Importante Sullo store Di apple Ma se lo fa Sullo store Terzo Non importa Il primo Cioè anche il primo Milione Viene tassato Quindi Cioè Il milione Di download Gratis C'è solo se Passi da apple Che ti fa Lo sconticino Dopo il primo Milione Direttamente Tutti E anche su Quelli esterni Quindi ti viene Proprio voglia Di partecipare A uno store Esterno Esatto Però tra L'altro Quindi abbiamo Detto Il ctf Lo paghi Anche se Sei su Store Terzi Non paghi Non paghi Le fee Delle commissioni Di cui Sopra Ma Sì signore Che vuoi commentare Un attimo Sto parlando Perché deve sempre Intervenire Con le chat Quando devo parlare Finisci Finisci E Aprire Uno store Terzo Su piattaforma iOS Da una parte Può Aver senso Per il business Se riesci Appunto A capire Tutte le regole Ad aggirare E a dire Ok Mi è comunque Conveniente Perché Non lo so Sono microsoft Voglio aprire Un negozio Con le mie Applicazioni Di office 365 Allora 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 È un discorso Sono microsoft Mi posso permettere Di pagare Tutte le fighe Che voglio Ok Dall'altro lato Però ci può essere Chi invece Vuole costruire Un business Model Creando Un proprio iPhone Un proprio App store Su Anche a sua volta Delle fee Sugli scaricamenti Di queste Applicazioni E Quindi Uno sviluppatore Che vuole Metti che Domani Samsung Vuole aprire Un nuovo Store Su iOS Lo sviluppatore Che vuole Pubblicare Su questo store Dovrà pagare La CTF Dovrà probabilmente Poi anche Pagare Un fee Al nuovo Sviluppatore Sì perché Lo store Paga Il 17 Più 10 Centesimi Più Eccetera Eccetera E il Però qualcosina Vorrà tenersi Da parte Proprio perché Essendo uno store E non essendo Un Autonegozio Di se stessi Per forza di cose Deve avere Questo interesse Commerciale Ed era lì Che torniamo Al trucchettino Di prima Per cui Bisogna Fornire Un servizio Di store Probabilmente Proprio per rendere Impossibile Qualsiasi Autosconto In sintesi Sì Infatti Poi ci dice Il signore Dalla regia Google Paga 2 miliardi Per avere La ricerca Su Safari Per iOS In realtà Il CTF Per molti Facebook Instagram Non è così Gravosa E sono Abbastanza D'accordo E oggi Leggevo Non mi ricordo In quale articolo Che facendo Facendo un calcolo Di quello Che dovrebbe pagare Ad esempio Meta Per Facebook Se non ricordo male È una cifra Attorno Boi Tipo 15 milioni Di euro Al mese Cosa che Marchetto Ci cresce Due vacche Con la Macademia Ce le lancia Poi anche Con le catapulte Esatto Vabbè però Poi lo devi moltiplicare Perché lo devi fare Per ogni applicazione Quindi se lo fai Per favor 30 milioni Per metà Mesa 40 milioni Insomma Allora Se il valore Del tuo utente Che scarica L'applicazione È superiore A 50 centesimi L'anno E se non mi sbaglio Adesso non so Quanti euro Al mese Sia l'utente Facebook L'utente Meta In generale Però sicuramente Lo è A ragione franco Non è una tassa Che manda In bancarotta Solamente Alcune realtà Megagalattiche Esatto Ricordiamo però Invece che oggi Facebook Non paga niente Per i suoi 2, 3, 4 Eccetera Eccetera Download Giornalieri Che vengono fatti Da Eccetera Zeri Eccetera Zeri Il spirito Del digital market Act È comunque Di aprire la concorrenza Dovrebbe essere Quello di favorire Realtà nascenti Innovazioni Grazie Massimo Grazie Massimo Per il contributo Se pare Quindi se questo calcolo Lo facciamo solamente Per Facebook Comunque La buona Apple Perché ci vuole bene Ani europei Quindi tutto questo Pensiamo che abbia fatto Qualcosa di cattivo qua E in realtà Ci vuole bene Perché ci fa anche scegliere Cioè A noi sviluppatori Di applicazioni Potremmo decidere Di rimanere Con le vecchie regole Col brutto e cattivo 30% Che dobbiamo dare Però niente CTF Niente guardarci I nostri conti in tasca Niente tutte quelle Altre cose brutte Oppure Possiamo passare Alla modalità europea Però Se scendiamo La pillola rossa E non quella blu Ai 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 Non possiamo più Tornare indietro E questa è un L'ultima E la ciliegina Sulla torta Di questa Lieve Dissuasione Diciamo Che viene Sostanzialmente Proposta Dal modo Anche in cui Apple Abbiamo altre cose Di sostanza Se no passiamo Appunto Alla fase Di analisi Abbiamo esaurito I temi Abbiamo intricato Abbastanza La storia Che abbiamo visto È complicata La sostanza È Molto 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 Complesso Poter pensare Che questo In qualche modo Come dire Apra A una vera Concorrenza A una A una vera Possibilità Di Diciamo Di utilizzare Sulle piattaforme Apple Sugli iPhone Sugli iPad Sulle piattaforme Apple Poter utilizzare Questa cosa Come un'occasione Di apertura Vera Bisogna capire Come si evolverà La situazione Perché Questo Come dire Ok Questa tra l'altro Diciamolo È una proposta Esatto O comunque Apple ha detto Io vedo il regolamento No non è una proposta Vedo il regolamento Questa è la mia mossa Questo è il mio nuovo regolamento Adesso La proposta Nel senso Che non è approvata È chiaro che Scusa Così chiariamo E non è una proposta Nel senso che Apple ha detto Ok ecco questo Faccio Però Dall'altro lato Siccome lo faccio Per essere compliant Con il digital market Dall'altra parte Dall'altra parte ci vuole L'autorità europea Che dice Ok Quello che hai fatto Va bene Potrei dirti No Non va bene Lo stesso E quindi Ti punto Fino alla morte Perché Quello che hai fatto Non è adeguato Ed è quello che succederà A marzo Che si vedrà A marzo Quando entrerà in vigore Digital market Markets act E si capirà Se verrà aperta Comunque una procedura D'infrazione A Apple E se sì Per quali Dei punti Proposti Bisogna esatto In realtà Penso che Apple Qui abbia proprio Preso Un paio D'avvocatucoli E li abbia messi A studiarsi La legge europea A studiarsi Tutti i dettagli Leggevo anche Proprio Come Alcuni passaggi Del DMA Che forse Prima Max Dicevi Che lascia Degli spazi Interpretativi Delle cose Non completamente Siano appunto Stati usati Per Come dire Giustificare Questo Che di fatto Risponde A ogni singola Richiesta Del Digital market Act Utilizzando Anche La logica Che le piattaforme Di Apple Sono parecchie iOS iPhone OS iPad OS Watch OS TV OS Sono tutti Sistemi diversi Vision Adesso che arriva E quindi Non sono lo stesso In questo modo I numeri Danno Contro Diciamo In questo caso Solamente All'iPhone E non All'altra Plataforma Tutte regole Che Ha cercato Di piegare Lì Chiaramente Saranno Questo è quello Che andrà Sono pronto A scommetterci In vigore Il 7 di marzo Quello che Siederà dopo Sarà una lunga Un lungo periodo Di tentativi E poi Esatto Quindi Il Il tutto Staremo Semplicemente A vedere Quello che andrà Ma Non è una proposta Questa è la novità Cioè Da iOS 17.4 C'è la prossima Versione Attualmente in beta Queste saranno Le novità Queste e altre Perché poi c'è La Ballotta Dei browser Come vi ricordate Internet Explorer Che chiedeva Di scegliere Quale browser Utilizzare È vero Quella non l'abbiamo citata Non l'abbiamo citata C'è un paio D'altre modifiche Minori In tutto questo Magna magna Che però Insomma Magna 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 Apple E tra l'altro Infatti Il discorso Della Finestrella Quindi Quando aprirete Safari Vi verrà chiesto Quale browser Utilizzare Ed eventualmente Scaricare Che Secondo me Chiude veramente Un cerchio Perché È esattamente Quello Una delle cose Che dovette fare Microsoft 25 anni fa Oramai Un quarto di secolo fa Siamo abbastanza vecchi Non la facevamo ancora Digitalia Però ce lo ricordiamo Tutti Tutti molto bene E Apple ha dovuto fare La stessa cosa E molto di più Per chiudere Questo cerchio E Apple Che si è Non neanche Microsoftizzata Neanche IBMizzata Ma molto di più Perché L'Apple Di oggi È molto Molto Più grande Influente Sull'economia Dei reparti Di economia Di quanto Non lo fossero Queste aziende Un quarto di secolo fa E sta utilizzando Le stesse Le stesse armi Esatto È il tipo di cultura Che si crea Il mercato è il mio Io sono E me lo gestisco L'avevamo Faccio di tutto L'avevamo citato La settimana scorsa Che Apple ha Imparato il meglio Delle strategie di Microsoft Negli anni 90 Mi sembra che fosse Un articolo Passato anche in In momento Di commento Vediamo i commenti Di Apple Sono divertenti I commenti Dai Ci vuole un po' Vai vai Commentiamo Quindi Apple ha rilasciato Questo Questa nota Questa nota stampa Con un tono Che è Il tono Da fidanzato Che viene lasciato Dalla fidanzata Oppure che sente Quel profumino Si sente un po' In colpa Capisce che Sta per succedere Sta per succedere qualcosa Quindi Tra tutti i cambiamenti L'Apple Introdurrà Nuove protezioni Che ridurranno Ma non potranno Eliminare I nuovi rischi Che il Digital Market Act Pose Pone Nei confronti Degli utenti europei Quindi già questa Questa è la prima Della prima frase E fa che dice Il DMA E DMA Pone dei rischi Agli utenti E noi bravi di Apple Li stiamo aiutando Con questi passi Apple continuerà A distribuire Le migliori E più sicure esperienze Possibili Per gli utenti europei Dove è possibile Vuol dire Perché il Digital Market Act Cattivo Non rende possibile Una vera Protezione La parola possibile Ritorna più e più volte Sempre con questa accezione Di noi Facciamo il possibile Anche se Ma non ce lo permettono Di fare di meglio Le nuove opzioni Per la processazione Dei pagamenti E lo scaricamento Delle applicazioni Su iOS Aprono nuove Strade Per il malware Le frodi E le truffe I contenuti Illeciti E dannosi E altre minacce Alla privacy Alla sicurezza Bellissimo Diciamo che Non ci sono andati Leggeri Nell'inizio In questo caso Apro una nota A lato Poi ti lascio andare avanti I commenti Ma guarda Finiremo dopo domani Esatto No ma infatti Fra un po' ci prendiamo Un momento di pausa Il La questione è che Nel Prima notavamo Come non è possibile Utilizzare Contemporaneamente In app purchase Standard Quello che Schiacci Ti guarda la faccia E hai comprato Quindi senza Con la sicurezza Intrinseca Del FSD Di tutti i meccanismi Di Apple Insieme A un meccanismo esterno Che verrà Notificato Come Attenzione Stai passando Per un Pagatore Un pagamentatore Un pagamentatore Misteriotatore Che potrebbe fare Chissà quali cose brutte Con i tuoi soldi I tuoi dati E altre cose malefiche Quindi ci sarà un po' Questo tentativo Di dire Gli altri sistemi Sono insicuri Perché dovrebbero essere Insicuri Questo Non lo sappiamo Invece quello nostro È sicuro Quindi scegli E anzi Scegli lo sviluppatore Lascio ai miei clienti Il sistema sicuro Metto il mio sistema Insicuro Dichiarato tale Adesso Appunto Questo documento È veramente Trovate Ne troverete Nei commenti Dell'episodio Gli articoli Dove Viene fatta Questa lunghissima lista Di queste Formulazioni Passivo-aggressive Della Apple Contanto Di qualcuno Che prova a capire Chi Tra il management Schiller Potrebbe Averci messo mano Al draft Di questo Di questo documento Però Il tema È Il tema È che comunque Ok Tu puoi essere sicuro Perché appunto Ti muri casa Alle finestre E alle porte Hai la possibilità Di farlo E puoi stare Poi stare Poi stare Così Oppure Puoi Avere delle finestre E avere delle porte Ok Dalla porta È possibile Che magari Se non stai attento Se non chiudi casa Entra Entri qualcuno Che Quello Qualcuno Che poi Possa farti Possa fare del male Però Hai Almeno Hai la Possibilità Di scelta E onestamente È vero Ci sono Ci possono essere Stati Dei Su altri Su altri dispositivi Dove altri dispositivi Può essere Android Ma può essere anche Windows Ci sono stati Sicuramente Dei Momenti In cui Le minacce Alla sicurezza E alla privacy Sono state Molto Molto Importanti Però il mondo È comunque Sempre andato avanti E non c'è mai Stato niente Di così Gargantuesco Da dire Mi muro Dentro casa Si tratta di Lasciare la scelta All'utente finale Sì Non solo C'è un'altra Osservazione Da fare Che quando Poi Non sei tu Che ti muri Dentro casa tua Ma accetti Di entrare All'interno Di una casa Che altri Hanno murato Dove mangi Quello che gli altri Ti passano Al costo Che gli altri Dicono Esatto Che poi Appunto Il vero problema Di fondo Di quando Si dice Che La necessità Della concorrenza Dell'interoperabilità È sempre stata Protezione Dell'utente finale Perché Appunto È evidente Che se vai Al mercato C'è il rischio Che ti fanno Ti borseggino Però Se ti fai Portare Tutto a casa Sempre Solo Dallo stesso Fornitore È altrettanto Evidente Che quel Fornitore Ti tiene Per il guinzaglio Stretto pure No? Magari Derriverri sotto Di Carlo Cracco Eh Però È chiaro È chiaro Però Il discorso È sempre quello Adesso Il vero Il vero Commento Che volevamo Forse Portare In evidenza È che Apple Ha fatto Questa mossa Come dicevamo E Almeno In questo Momento La percezione Lo scetticismo Che si è Generato Rispetto anche Proprio all'atteggiamento Perché il documento Che stavamo provando A leggere Che è divertente Da leggere Però poi Quando uno Lo prende un po' Sul serio Non è più tanto Divertente Perché Come dire Trasmette Anche Non solo Un disprezzo Perché dice Abbastanza Chiaramente I Leggiamolo Traduciamolo Un attimo I legislatori Della comunità Europea Dell'Unione Europea Sono Dei legislatori Che non hanno Attenzione Agli interessi Dei loro Cittadini Perché stanno Mettendo a rischio Lo dice Più di una Volta Questa Regolamentazione Introduce Sostanzialmente Pericoli Per l'utente Finale E non accenna Minimamente Al vantaggio Della concorrenza Quindi Apple Veicola Una Tracotanza Sia nei confronti Delle nostre istituzioni Che nei confronti Di noi utenti Che appunto Come dicevi tu Chiude il cerchio Di una trasformazione Completa Di un'azienda Che un tempo Per noi Era sinonimo Di grande innovazione Di apertura Di Quello che di positivo Abbiamo raccontato E quindi Consigliamo ai nostri Ascoltatori Di guardare Tutta la La raccolta Degli articoli Che abbiamo selezionato Con grande divertimento Di leggerli Anche proprio Per percepire Questa sensazione Ma quella lettera Va veramente letta E sfogliata Nel frattempo Io approfitterei Per prenderci un momento Di respiro Ringraziando Coloro che permettono Che Digitalia Vada in onda C'è i produttori Esecutivi E poi parliamo Di Spotify E Mozilla Che hanno rilasciato Qualche commento Anche loro Abbastanza felice E contento Sull'argomento I produttori Esecutivi Come dicevo prima Sono coloro Che permettono A Digitalia Di andare in onda Tutti lunedì sera Sono il nostro Modello di business Di sussistenza Noi trasmettiamo Senza oboli Senza fiorini Obbligatori Ma semplicemente Chiediamo una retribuzione Un po' come fosse Un modello shareware Libero Quindi ognuno di voi Può scegliere Quanto Quando In che modo Chiaramente noi apprezziamo Max Gorgoro Valerio Bendotti Giuseppe Giuseppe Marino Paola Danieri Giulio Magnifico Mattia Lanzoni Mattia Lanzoni Luca Di Stefano Nicola Bisceglie Fabio Filisetti Andrea Bottaro E Alberto Uffaro Grazie Donazione ricorrente Da 3,21 centesimi di euro Di Elisa Emaldi E Marco Crosa Che poi Dà Il pace del passo Alle donazioni Da 5 euro Che iniziano Con una tripletta Di donazioni singole Di Gabriele Di Lorenzo Alessio Pappini Di Lorenzo Scusami Gabriele Alessio Pappini E Giuseppe Brusadelli Che manda un Complicato Secondo me L'ha ispirato un po' Il Digital Market Act Messaggine Perché dice Sto cercando di capire Se si può impostare Il versamento Ricorrente con Satispey Ma non lo trovo Mi viene il dubbio Che non si possa fare Franco Non si può Occorrente Ah no Franco Questa è la risposta Ecco Non avevo Intensità Vuoi fare anche limitazioni Ecco la risposta Di Franco Non mi viene Non mi viene Dimitri Non la so fare Però la posso fare Con tono un po' Più rigido Non si può Occorre Intonentare da zero Tutto il meccanismo Di pagamento Via API Di Satispey Magari con un plugin Qualcuno si offre Di svilupparlo Time Talent Treasure E con questo Crypto Messaggio Del nostro Doc Procedo Con le donazioni Vabbè insomma Dai Volevo fare Un po' Non ci sia altro Per finirlo Tale Talent Treasure Magari uno Mazzina che c'è Un doppio senso Donazioni ricorrenti Dai ci stiamo perdendo Con i nostri donatori Non ci distraiamo Donazioni ricorrenti Da 5 euro al mese Di Antonio Gargiulo Douglas Whiting Douglas Whiting Massimiliano Dardi Daniele Corsi E Mirto Tondini Entriamo nella zona Qui di solito Il doc dice Grazie Grazie a tutti Entriamo nella zona Di donazioni ricorrenti Da grandi produttori Ovvero quelle da 10 euro Al mese in su E abbiamo quelle di Maurizio Galluzzo E di Fabrizio Mele E poi colpo di scena Un lead executive producer Di questa puntata Che si eseguisce In una donazione singola Da 100 euro Si tratta di Gianluca Grazie Gianluca Un numero tondo Bellissimo Grazie mille Gianluca Grazie mille A tutti quanti Per il vostro contributo Per far sì che Digitalia vada avanti E grazie di cuore Veramente E trovate su Digitalia.fm Tutte le indicazioni Per contribuire Con il vostro time Il vostro treasure E il vostro talent Franco Non ci ha ricordato Ma so che vuole Sempre la sigla Video a qualcuno Prima o poi L'aiuti Adesso c'è anche Il plugin di Satispay Quindi un sacco Di talent Che può essere Messo In contribuzione Per riuscire A migliorare La trasmissione Per il resto Grazie a tutti quanti Per quello che fate E noi siamo qui E lavoriamo per voi Time Come infatti Sì gasati I problemi principali Giustamente Mozilla Che bello Possiamo fare Che appunto Torniamo finalmente Poi sta un po' Qualcuno I suoi americani Su quello che ci stiamo Videogio Ha un ruolo significativo Sì infatti Non è anche saturato Adesso non so Si vuole una percentuale Probabilmente a due cifre Ma molto molto sotto Il 50% Però ancora Se avessero colpito Il famoso tetto di vetro E non riescono A sfondare Sì diciamo che La differenza Fra libri e videogiochi Probabilmente anche il costo Nel senso che Un libro spesso Soprattutto poi in digitale Si trova A prezzi Molto I videogiochi Oggi un tripla Comunque un 50 70 80 euro Costa Appena uscito Appena uscito Certo Poi ci sono le varie rivendite Le varie sistemi Però è un qualcosa Che comunque È più Generalmente visto Come un oggetto Più costoso Per il quale Finora È stata Molto attiva La rivendita Dell'usato Il fatto di andare Da GameStop Portare il proprio Videogioco usato Poterne quindi Comprare un altro E contemporaneamente Chi accettava Di giocare Un gioco Non proprio L'ultimo uscito Ma il penultimo Poteva riuscire A ottenere Un bello sconto Alla fine Un bene digitale Non si Deteriora Col tempo Questo però È un fenomeno Che c'è anche Con la versione Totalmente digitale Perché appunto Comunque Trascorso un certo tempo I prezzi Si abbassano Dipende Finché non parli Dei giochi Della Nintendo E oggi Comprare Uno Zelda Il primo uscito Sulla Switch Costa Praticamente Come Quando è uscito Quasi Esatto Lì Se salti La rivendita Dell'usato E lì Non c'è Cioè Veramente Certi prezzi Sono quelli Non carano Di un euro Noi siamo Abituati Magari ad altri Marketplace Come Xbox Playstation Che evidentemente Contano Steam Nintendo Ad esempio È classico Che è difficilissimo Riuscire a trovare offerte Ci sono anche lì Ma No Bah sì Ci sono Ma sul fisico Ti dico Io ho comprato Ho comprato Quest'estate In Malesia In un negozio Di videogiochi Ho comprato Come si chiama Luigi Quello Luigi's Mansion Luigi's Mansion Esatto Il 3 Se non sbaglio Quello Quello per la Switch E in Malesia Usato L'ho pagato Boh 32 33 euro Usato Sui Ben Italia 38 39 A prezzo A prezzo pieno Credo che non sia mai sceso Sotto i 45 euro Ma in Malesia In che lingua è? No no In inglese Mi sono informato Che non ha il Che non ha il Sotto titolo in Malesia No Non aveva il Blocco Il blocco regionale Però sì Poi in realtà Il tema Di questa catena Di questa catena inglese Che da noi non c'è Che si chiama Si chiama game Fa parte Di più di una questione Di ristrutturazione Aziendale Che ha dato La priorità Ad altro tipo Un altro tipo Di business Però Considerando che appunto Oggi Adesso non so Quanto sia la percentuale Di fisico Sul digitale Ma Su alcune piattaforme Sul pc Credo che il fisico Sia praticamente Inesistente Forse esiste ancora Per le console Ma su pc È tutto steam Quasi tutto steam Ed è un problema Può essere un problema Anche perché Poi spesso Era Un modo Per i ragazzi Per approcciarsi Ai videogiochi Perché appunto Portavi Ne portavi due o tre E magari Ti riuscivi a prendere A costo A costo Quasi zero Ok Ci sono I saldi di steam Quattro volte all'anno Forse anche di più Però ecco Torniamo secondo me Al discorso Del controllo Che l'Apple fa Sul suo Sul suo giardino Cintato E si sta andando In quella direzione Anche nel mondo Dei videogiochi Sì Io ammetto Che anch'io Compro ormai Solamente I giochi digitali Perché Preferisco Non Come dire Non dover inserire Il dischetto Per un appunto Rimango Sì Anche perché Ci ho provato Nello steam deck Ma il dischetto Non ci entra Non ci entra Nello steam deck Vedi Però effettivamente Capisco Come Come anche Nei compact disc Nei vinili Abbiamo detto Più volte L'oggetto fisico Comunque ha un Quel fascino Ti dà quel valore In più Secondo me Che anche Di percepito Il gioco Che ti sei comprato Al negozio È diverso Dal codice Che scarichi Infatti I collezionisti Tanti collezionisti Oggi Aspettano Di comprare Il fisico Tra l'altro In alcune piattaforme Il fisico Poi diventa Magari La scatola fisica Ma con il Col codice stampato O la cartuccia vuota Che ti fa poi scaricare Tutto il gioco Comunque da internet Quindi è tutto Percezione Ad esempio Secondo me è una cosa Che manca tantissimo Dal passaggio dal digital Al fisico Ad esempio Il poter regalare Qualcosa Che sia Un videogioco O anche Il caso della musica Secondo me Con i vinili Un po' Sta tornando Però ecco Quel tipo di scambio Molto umano Ce lo stiamo Un po' Perden Più egoismo Per tutti Fantastico Dai direi che Tema con la puntata Tema con la puntata Michele invece Ci hai passato Tu Un interessante Articolo Sul caso Di 23andme Ok Sì Ne abbiamo parlato Oramai varie volte Di 23andme Si è ripresentata La cosa Si è ripresentata Varie volte Fino ad oggi Gli aggiornamenti Erano Ok Siamo stati Sotto attacco Ma era dovuto Principalmente Allo scraping Da parte Di attori malevoli Che facevano Scraping Di informazioni Pubbliche O semipubbliche Con link Magari con link Di quelli Particolarmente Particolarmente Complessi Si è scoperto Che In realtà Si è scoperto 23andme Invece ha comunicato Ad alcuni utenti Californiani Come è obbligato A fare Dalla legge Locale Che invece Ha subito Anche Un attacco Di brute force Esatto Questo attacco Che ha Ha messo Ha messo In luce Credo Gli account Di 14.000 Utenti Che sono stati Bucati Poi E qui Poi è partito Il gioco Del Blame game Come lo chiama L'articolo Perché 23andme Inizia a dire Si vabbè Però colpa Vostra Che avete Che avete Non avete Cambiato Le password O che Utilizzavate Password Che magari Hanno state Bucate Da altri In altre In altre In altre Situazioni E Si Ma In quanto Piattaforma A parte te ne dovresti Accorgere Se c'hai Un attacco Anche perché Loro Hanno Allora Le cose Sono saltate fuori Intorno a ottobre I primi Le prime notizie Di fuga di dati Quando loro Hanno subito Questi attacchi Di brute force Quindi è un qualcosa Che dovrebbe essere visibile Proprio i tentativi Di accesso Multipli Eccetera Fra aprile Settembre 2023 Quindi è stato proprio Un periodo bello Lungo Con sei mesi In cui non se ne è accorta Nessù E questo Chiaramente fa un po' Riflettere Sul Su come Un dato personale Come la gestione Della mappatura Del DNA E di quello che è Una probabilmente Delle cose più intime Che abbiamo Il nostro patrimonio Genetico Sia stato veramente Gestito in una maniera Estremamente superficiale Sia come Gestione fisica Appunto Della protezione Di dati Poi come comunicazione Perché Se da ottobre Se ne sta parlando A fine gennaio Con sì Qualche accenno Prima E tanta colpevolezza Nei confronti Degli utenti Che avrebbero avuto Secondo loro Password Leggere Insomma Siamo veramente Su un'azienda Che non Non dimostra Attenzione Ecco Sono un po' terrorizzato Dal rischio Di una Clonazione Di Michele Devo dire Sappiamo Che Michele È uno Dei sperimentatori Che quindi Ha partecipato A queste cose Di 23mi E insomma Il rischio Di una colonazione Sì Devo dire Che originariamente Mi era venuto Lo sfido Di comprare Uno di quei Dei cotton fioc Da infiare Su per il naso Ci ho pensato Tipo Ma non ne hai fatto Abbastanza In questi In tre anni Era prima Di quel periodo Ancora non sapevo Però ecco Ci ho pensato Cinque secondi Ho pensato Forse non è una buona idea E soprattutto Forse non le vale la pena Forse mi ha convinto Di più La puntata di Salto Parco Sul tema Che il resto Però Sì Forse Anche perché Da quello che ho capito Da quello che ho letto in giro Alla fine ti dà delle informazioni Quanto meno Come dire Da un risibile contenuto scientifico Sì Figurati Penso che Quello che faceva 23mi Era poco più che Un intelligente marketing Su questa Beh fa Le cotafia Che ancora Esistono Ancora sono attivi Poi chiaramente Tutta questa Non è una bellissima pubblicità Per loro Ma Al momento Vanno avanti C'è un interesse In quella direzione Dai E invece Interesse per interesse C'è un interesse Anche nelle elezioni Che adesso Stanno avvenendo Negli Stati Uniti E con direi Un grandissimo Te l'avevo detto Leggendo quest'articolo Veramente Ti viene Penso che qui Su Digitalia Abbiamo parlato Perlomeno Una cinquantina Di volte Cioè Che cosa è successo Che Almeno Ha riportato Dai media Che effettivamente Come dire Quelli che erano Le preoccupazioni Di un utilizzo Delle nuove tecnologie Di intelligenza artificiale In termini Della possibilità Di generare Immagini Video E audio Che siano Straordinariamente Simili E poco distinguibili Dagli originali Ma con contenuti Assolutamente falsi E appunto I famosi Fake Deep Fake E così via Sono diventati Ormai Così sofisticati E così semplici In qualche maniera Da realizzare Che vengono Potenzialmente Utilizzati In tutte le situazioni In cui cose Di questo tipo Possono generare Caos Confusione Possono Ovviamente Spostare mazza Oppure in questo caso Specifico Stiamo parlando Delle elezioni Ovviamente Gli Stati Uniti D'America Che penso Sono uno degli argomenti Che il 2024 Lo riempiranno Costantemente Dove Già avevamo Avuto nel passato Un po' di idee Che utilizzando Opportunamente Gli strumenti Legati con i social Eccetera Eccetera Si potesse Condizionare il voto Adesso è partito Il discorso Ecco La novità Rispetto A un paio Di lezioni Fa dove c'era Cambridge Analytica Quindi c'erano I social network Facebook Che spostava Le masse Poi abbiamo visto Che le masse Erano relativamente poche Però comunque Ha contribuito A quella che è stata Le lezione Ai tempi Oggi L'intelligenza Artificiale Generativa Ha permesso Di andare Ancora in maniera Più subdola Spostandosi Su un modello Quasi analogico Cioè sulle telefonate Che quindi Sono qualcosa Di cui ci arriva Tramite Sì Una cornetta Che è uno smartphone Oggi Però Di fatto è ancora Un qualcosa Visto relativamente Analogico Perlomeno la voce Quindi La generazione Di telefonate Automatiche Gestire l'AI Per cercare Di promuovere Vorrei dire Una disinformazione Perché poi Non è tanto La telefonata Automatica Che ovviamente Vabbè È chiaro Che puoi Il contenuto Il contenuto Il fatto che appunto Nel caso in esame Era una Imitazione Della voce Di Biden Che Molto Molto Diciamo Realistica Realistica Esattamente Che di fatto Veniva utilizzata Per danneggiare La campagna Elettorale Presidenziale In quel caso In questo caso Delle primarie Ovviamente Secondo me Un po' L'articolo Come dire È appunto Costruito Intorno A questa A questa Sensazione Crescente Di Guardate Che davvero Con questi strumenti Si possono fare cose Molto Molto Pericolose L'ho letto Un po' Anche Come una Sorta Di Come dire Tentativo Di fare Un po' Di vaccino Cioè Di Di propagare Un'idea Per la quale La gente Comincia Ad essere Attenta E a diffidare Da tutto Quello L'articolo È molto Puntato Su questo Come possiamo Essere pronti Come facciamo Ad avere Dei tempi Di risporta Rispetto a Queste cose Questi tip Fake Che siano Adeguati Alla velocità Con cui si Propagano E cose Di questo Tipo Scusami Interrotto Michele Stai dicendo Io che stavo Interrompendo Te Tra l'altro Tutto Corretto E Sia Come dire Sia Oggi La gente Malevolo Ha utilizzato Una Un evento Come le primarie Democratiche Del New Hampshire Per dire Il contenuto Di questo messaggio Era tipo Non andate A votare Non so Quale Scusa Ha utilizzato Appunto Questa Questa tecnica Per un evento Che ha Praticamente Zero impatto Le Le prime Non so Non saprei Neanche Non credo Che non so Neanche Se ci sono Degli sfidanti Oggi Di Biden Alle primarie Democratiche Quindi Come dire Un evento Che non Ha spostato Come Non ha spostato Niente Ma anche Nel peggiore Dei casi Non avrebbe Sarebbe stato Praticamente Inutile E appunto Questo Oggi Da capire Cosa ovviamente Succederebbe Il giorno A novembre Quando ci saranno Le elezioni Vere e proprie Tra l'altro Anche qui Mi viene in mente La puntata Dei Simpson Dove Homer Si compra La macchina Per fare Le telefonate Sì Diciamo che È da qua Novembre Perché poi Sono le elezioni Lunghe Nel senso Che novembre C'è proprio L'elezione finale Ma tutto il periodo Prima di Varie primarie Nei 50 stati E tutto quanto I couscous Come dicevamo I couscous Come dicevamo Appena finiti Esatto Buoni Buoni Eh Sarà interessante E poi L'altro fronte Che fa il paio Con la notizia Di Taylor Swift Sostanzialmente L'altra faccia Della medaglia Che questo discorso In questo caso Dei deep fake porn Che hanno avuto Di nuovo Un Grande Eco Sui media Generalisti Perché In questo caso La persona Che è stata Oggetto Di queste Farse immagini No Non so Se era un video O erano delle foto Sono foto E video Penso Perché Sicuramente Un po' di tutto Già in quantità Si parla appunto Di immagini Artificiali Generate Di quella Che è adesso Una delle più grandi Pop star Che è Taylor Swift Che si è trovata Vittima Di questo Di questo scam Di questa Di questa inondazione Inondazione Chiamiamola Come vogliamo Però E di questo abuso Della sua immagine Esatto Il tutto Grazie al fatto Che comunque È una delle parole Di ricerca Più cercate Anche grazie Alla sua popolarità Sicuramente Abbiamo già detto Che è una delle persone Più influenti Anche a livello Popolare Nell'ultimo anno E L'articolo di Vice Poi la pone Secondo me In maniera Molta intelligente Perché Ok Se Taylor Swift È una cosa Orribile Che nessuno Si merita Tantomeno Tantomeno Taylor Swift Se Taylor Swift Poi almeno Hai X Che blocca Le ricerche Sul suo motore Di ricerca Perché appunto Poi tutto questo È andato avanti Fortemente Su X Reddit Ha una policy Di moderazione Su questo tema X Non ha più Moderatori Quindi diciamo Che ha trovato Terreno Fertile Però finché Se Taylor Swift Succede anche Succede anche questo Il problema È che per ogni Taylor Swift Ci sono migliaia Di donne Che oggi Subiscono Questo tipo Di trattamento Che non finiscono Agli onori Alla ribalta Della Della cronaca Se voi aprite Un 4chan Qualsiasi Trovate Dei thread In cui Le persone Postano Le foto Di Conoscenti Chiedendo Che vengano Creati Dei Deepfake A sfondo Pornografico Di queste Di queste Persone Che magari Poi appunto Non arrivano Alla ribalta Della cronaca Come quelle Di Taylor Swift Ma magari Girano Sulla chat Dei Ecco Nella scuola Per esempio Immaginate Le battutine Che si fanno Tra ragazzi Che vengono Amplificate Da strumenti Di questo Genre Esatto Quindi il problema C'è Reale Purtroppo Viene da dire E' anche Sufficientemente Diffuso Perché sono Sufficientemente Facili Da Utilizzare Oggi Questi strumenti Ecco Mi chiedo Se la popolarità Di Taylor Swift Abbia portato A una conoscenza Maggiore Anzi Ha portato sicuramente A una conoscenza Maggiore Di quello che è il fenomeno Mi chiedo In che senso Però Se abbia Invogliato Più persone A farne utilizzo Grazie anche All'indicazione Di Michele Che c'è dove andare Su che siti In che thread Oppure Grazie Michele Per il servizio pubblico Oppure Se invece Così come È stata bloccata La sua ricerca Da X Quindi è tornata Un po' di moderazione A questi contenuti Anche se Molto puntuali Nei suoi confronti Se Il fatto Che una pop star Delle sue dimensioni Della sua popolarità Abbia subito Una cosa Di genere Aiuti Anche Appunto Le ragazze I ragazzi Perché poi Può essere Qualcosa Che succede In tutte le direzioni Guarda Io su questo Diciamo Questo è un discorso Che poi In realtà È Molto Generalizzabile E In fondo È stato Enormemente Amplificato Dalla facilità E dalla Rapidità Con la quale Questi strumenti Consentano di fare Queste cose Però insomma È paragonabile Con appunto Gli scherzacci Di cattivo gusto È tutto quello Che In qualche maniera Fa male Alla gente A partire In maniera gratuita È un po' Lo scherzaccio Esatto Cioè Insomma Io ho visto Scherzacci A livello Poi ci sono Poi mettere Il velo Dei topi Negli spaghetti Di qualcuno Per fargli lo scherzone Però certo Quello che volevo dire È che C'è l'eterno problema Di certe cose È meglio Non parlarne Per non dare Eco e non far venire Oppure è meglio Parlarne con chiarezza E far venire fuori I problemi E sapere che esistono E affrontarli Io sono nettamente Su questa seconda posizione Quindi il caso Di Taylor Swift In qualche maniera È comunque utile Perché Riporta All'attenzione Dei media All'attenzione Dei media Generalisti E dà la possibilità A noi Di parlarne qui E a tutti Di farsi qualche domanda Certo che ci sarà Magari quello Che è malato Ne approfitta E dice Ho scoperto Che posso fare Questa cosa Però immagino E spero E credo Che la maggior parte Delle persone Invece In qualche maniera Imparino A stare attente A queste cose E stiano Un po' più vigili Su quello Che queste nuove Possibilità Tecnologiche Consentono di fare Sì che la prendano La prendano seriamente Quando ti arriva Veramente La foto Della collega Con le Con le Di fori Sai che sei sicuro Che è un di fake Che va presa Con Come dire Con assoluta serietà E gravità Perché È un È un materiale Non consensiente Che poi in realtà Vale per i di fake Come vale poi Per le immagini Pornografiche Come dire Generate Nella realtà I Ecco Mentre Avete letto La notizia Che Eric Schmidt Il Ex CEO Di Google Ex Don't be Qui siamo sempre A te l'avevo detto No Perché Questo signore Che cosa ha fatto Guarda un po' Don't be No Famosa Guarda un po' Ha fondato un'azienda White Star Per la produzione Diciamo Di armi Basate Su tecniche D'eligenza artificiale Diciamola così In maniera un po' Semplicistica È riportato Un suo virgolettato Che Questo articolo Che abbiamo letto Che spero non sia vero Ma temo che lo sia In cui lui Paragonando La frase Di Di Einstein Che Per il periodo In cui Einstein Portava L'attenzione Dei vari Responsabili Presidenti Eccetera Eccetera Il fatto che Le armi nucleari Fossero A un nuovo livello E avrebbero cambiato Completamente La faccia del mondo Grazie al fatto Che erano Totalmente distruttive E lui dice Per me L'intelligenza artificiale È allo stesso livello Delle armi nucleari A quel tempo E allora lui Che fa Fonda un'azienda Per lo sviluppo Di droni Che utilizzino Droni da attacco Droni militari Droni da attacco Droni da attacco È questa la cosa Noi mi hanno sempre detto Chissà cosa succede Una volta che mettiamo Una mitragliatrice Su uno dei cani Lui dice Lo faccio io Finirà come con Appunto La guerra fresca E il deterrente nucleare Quando avremo Un miliardo di droni Dattacco Stivati e pronti All'attacco E dall'altra parte pure Nessuno Utilizzerà più droni Mi sto immaginando Il prossimo film Di Tarantino Dove tre droni Col cappello Si stanno puntando Rispettivamente Le pistole Dringo Il drone Lo stallo Del drone La messicana Vabbè È un buon modo Di concludere Con i droni Quentin Chiamaci Che abbiamo La sceneggiatura pronta Sappilo Devi fare L'ultimo film Il decimo Fallo con la sceneggiatura Di Digitalia Esatto Che Digitalia Oltre a regalare film Porta anche i gingilli E quindi È il momento Dei gingilli del giorno Signore e signori I gingilli del giorno I gingilli del giorno Sono i regali Dei digitaliani Per i digitaliani Le voci di digitalia A fine trasmissione Selezionano per voi Hardware Software Letteratura Qualsiasi cosa Che abbia un'attivenza Digitaliana Ovviamente Che abbia colpito La loro curiosità Travolta la loro resistenza O qualsiasi sfumatura Nel mezzo Max Cosa ci porti oggi E che cosa Allora guarda Per una cosa Un po' insolita Per me Che sapete Di solito Preferisco Libri Eccetera Vi porto Un'applicazione In realtà È un'applicazione Di intelligenza Artificiale Guardo un po' Che mi è stata Segnalata Da un amico Si chiama Gamma.app In realtà È un sito Ed è un generatore Ce ne sono vari In giro ormai Però questo Io l'ho utilizzato E l'ho trovato Veramente Stupefacente Vale la pena Di provarlo È un generatore Di presentazioni L'aspetto Più Interessante Poi genera Anche documenti Eccetera Eccetera Però l'aspetto Più interessante Di tutti È che A partire Da un prompt Genera Una presentazione Diciamo Powerpoint Like Per capirci E devo dire Che anche qui Abbiamo degli effetti Veramente stupefacenti Nel senso Che con una singola frase Ho provato A fargli fare Cose del tipo Una presentazione Sulle reti Di calcolatori Piuttosto Che su altri Argomenti Naturalmente Come tutte le cose È uno strumento Non va preso Non bisogna aspettarsi Chissà che cosa Ma Credo che Questo tipo Di applicazioni Nel mondo Reale Veramente Cambieranno Un po' I tempi E i modi Della produttività In questi settori Perché devo dire Io mi sono ritrovato Con per esempio Una presentazione Da 15 slide Nella quale Con un po' Di lavoro In più È venuto fuori Davvero Un bel prodotto E provatelo Rischia di essere Addirittura Un po' Come dire Ipnotizzante Ti fa venire voglia Poi di usarlo Un po' Dappertutto Sindrome Da foglio bianco Di powerpoint Esattamente Fantastico Grazie mille Userò subito Probabilmente Provala Provala Michele Se avete Tipo Quelle 20 ore Da perdere Davanti al computer Invece che lavorare Vi consiglio Questo Che è un museo Digitale Che trovate All'indirizzo Noclip.website Che è Un Esploratore 3D Di livelli Di videogioco Il sito Emula O ricostruisce All'interno Del browser I livelli Di alcuni Dei giochi Più famosi C'è tanta piattaforma Nintendo Dalla Wii Gamecube Nintendo 64 Il DS Quindi trovate Vari Mario Vari Zelda Trovate poi qualcosa Per la Playstation 2 Giusto un paio di giochini Sull'Xbox E un po' di roba Dal PC Soprattutto Source Engine Quindi Half-Life Portal Team Fortress Quindi se vi siete Potete girare Manipolare I livelli Quindi se vi siete chiesti Come era fatta Il livello Del primo Half-Life Con il carrellino Che vi portate in giro Ecco Potete Potete aprirlo Oppure Xen Il pianeta degli alieni Alla fine Potete aprire Selezionare il gioco Selezionare il livello E appunto Poi esplorarlo Come se poi Noclip È una citazione Dai Che Credo fosse Il primo Quake Che vi permette Magari Altri migliaia di gioco Ma sono abbastanza sicuro Che lo usavo Su Quake Che vi permette Appunto Di girare Per i livelli Passando attraverso Le pareti Lo trovate Su noclip Punto website Ovviamente È gratuito E credo sia anche In espansione Quindi ogni tanto Aggiungono anche Qualche giochini Fantasio Grazie mille Michele Molto bello Molto bello Da perderci Sì Dentro Anche perché appunto Ci si perde Proprio letteralmente Quindi è molto divertente Non ci siamo messi D'accordo E Michele Perché anche io Porto un Gingillo A tema Giochi Però era un Gingillo Un po' più nerd Nel senso Che ho trovato Un canale Youtube Che fa dei bellissimi Video Di quelli Di cui ci si perde Veramente Sono fatti Con una grande cura Di dettagli Sia Estetici Sia Di Di contenutistica Quindi che vanno Molto in dettaglio Ma tenendo sempre Un tono Sufficientemente leggero Non per i professionisti Del settore In particolare Sul canale di Branch Education Il video Che mi ha fatto perdere Veramente Un piacevole 20 minuti Scoprendo Dettagli Sul mondo Che conoscevo Abbastanza di striscio Perché non avevo Mai approfondito Tutti questi livelli E come funzionano Le grafiche Dei videogiochi How do videogames Graphics Work E un video Che in appunto 20 minuti Spiega Come funziona Con i famosi Triangoli Che cosa fanno Le GPU Quali sono i calcoli Matematici Trasformate Tutto quanto Quello che viene fatto Per arrivare Da i modelli E la posizione Della telecamera Nei giochi 3D A vedere poi Quello che vediamo Il tutto 120 volte al secondo Nei videogiochi Più belli I famosi 120 Hz Veramente interessante Come tutti gli altri Film Video del canale Li consiglio Trovate il link Nelle note D'episodio E sul sito Digitalia.fm Slash 708 Dai Ce l'abbiamo fatta Puntata È stato complicato Girare tra tutti Questi piloni Esatto Puntata impegnativa Anche perché appunto La stampa È stata Monopolizzata Perlomeno Quella tecnica Da Dalla notizia Poi probabilmente Ne valeva la pena Di approfondirla A livello di questi dettagli Poi fatecelo sapere Chiaramente Con Potete trovarci Sui nostri vari canali Non abbiamo ricordato Ma Cercandoci Con i nostri Nomi e soprannomi Su X Sui vari Mastodon O Direttamente Nella community Slack Digitalia.fm Slash Slack Tutta la settimana Ci trovate Potete darci i vostri Commenti Commenti Che Ci fa piacere leggere Anche sulle Piattaforme Potete anche fare i commenti Vecchio stile Con gli amici Tipo Ah sai che ho ascoltato Una cosa molto interessante Puoi ascoltarla anche tu E portarci così Nuove orecchie fresche Ci fa sempre molto molto piacere Per il resto Direi che È tutto È stata una serata Impegnativa Ma Come sempre Ci vediamo lunedì prossimo Con la prossima puntata Digitalia Intanto Dallo studio di Milano Città Studi Di Scorta Un saluto E una buona settimana Da Francesco Facconi Dallo studio Cittadino di Avellino Un abbraccio Da Massimo De Santo E dallo studio di Milano Isola Un ciao Da Michele Di Maio Ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata Di Digitalia Di Digitalia Eccoci